Allora abbiamo analizzato tanti aspetti economici della gestione della pizzeria, volevo parlarti un pochettino di comunicazione, quindi per quanto riguarda social network, giornali, sapere un pochettino tu come comunichi con i tuoi clienti, perché sappiamo che parlare ai nostri clienti e capire cosa vogliono i nostri clienti è importante e vorrei sapere per curiosità te come ti muovi sotto questo aspetto? Allora noi abbiamo delle pagine, una pagina facebook, una pagina instagram e su queste pagine pubblichiamo i nostri prodotti, ci sono i nostri recapiti telefonici, se facciamo una pizza nuova particolare con un prodotto di stagione o un prodotto fresco che magari sia un pesce o altro, lo pubblichiamo immediatamente o anche con qualche giorno d'anticipo per far sì che la gente sa che quel giorno troverà quel prodotto in pizzeria e abbiamo fatto un buon giro di volantini e insomma. Fai da te questa cosa o ti affidi a un professionista? No, è fatta in famiglia e diciamo ho mia zia che fortunatamente cura gli aspetti pubblicitari e altro quindi mi aiuta lei sotto questo sotto questo aspetto. Lei si occupa di principalmente? pubblicità, pubblicità e cose varie. Quindi lei magari ti consiglia su come muoverti sui social? Sì, come fare un post magari lo fa direttamente lei, cioè si fa mandare delle foto e poi crea il post di modo che... Quindi pensi comunque sia importante avvalerti di un consiglio? Di un aiuto, certamente, su tutto secondo me bisogna chiedere a chi è più esperto di noi.